Il problema dei bagagli. Il problema dei bagagli è un problema veramente serio, perché alcuni aeroporti, soprattutto italiani, hanno veramente una maglia nera. Quando un cliente arriva in un qualsiasi destinazione di vacanza e non ha il bagaglio con sé, veramente si innesca anche là una reazione a catena. Comincia a trovare il pelo nell'uovo in tutto quello che ha il soggiorno. Cominciano le telefonate a raffica per lamentarsi di qualsiasi cosa che in un altro momento non se ne sarebbe neanche accorto, che effettivamente non c'è. E poi quello che viene più contestata è la mancanza di informazione per i bagagli. Ci sono passeggeri che sono fuori per detour di 8-10 giorni e ogni giorno vengono rassicurati che arriverà il bagaglio, che è tutto a posto, che il bagaglio è arrivato, ma torneranno nel luogo di origine senza sapere che fino ha fatto questo bagaglio. Cioè non è possibile una cosa del genere. Questo, a parte la tutela, ma lì veramente poi non ci possiamo lamentare se il cliente torna e ci chiede il danno da vacanza rovinata. Oltre ai vari rimborsi, che tra l'altro, un'altra, diciamo, consentitemi di dirlo, barzelletta, che è capitata anche a me personalmente, il rimborso del bagaglio è veramente irrisorio, sia se parliamo di assicurazione, sia se parliamo di quello che spetta la compagnia aerea, del valore che poi è dentro un bagaglio. Valore proprio commerciale. Per quanto poi riguarda il biglietto aereo in sé per sé, io sono d'accordo che il biglietto aereo è diventato un contenitore di tutto quello che uno non sa dove posizionare, soprattutto a livello di tasse. E su questo, in effetti, bisogna farla finirla. Bisogna finire su questo, quantomeno finirla con tutte le caselline. Fortunatamente ad oggi non abbiamo più, fortunatamente o sfortunatamente, secondo come lo si vede, non abbiamo più il biglietto cartaceo, perché altrimenti non sapremo più in quale casellina minuscola inserire le varie voci di queste tasse, che oramai ci siamo anche dimenticati quali sono, perché poi un brutto vizio italiano è che si mettono le tasse straordinarie, ma non si tolgono mai. Finita l'emergenza, credo che ci sia ancora la tassa, correggetemi, si sbaglio, legata alla sicurezza per il giubileo a Roma, all'aeroporto di più vicino, quindi insomma ci sono delle cose che vanno oltre. Però qualcosa bisogna fare. Il problema del biglietto aereo è che per chi lo vende, e quindi parla degli agenti di viaggio, è far capire qual è il costo reale del biglietto, perché alla fine il costo reale del biglietto è molto più elevato di quello che il cliente pensa. E molte volte il cliente pensa che la maggior parte di queste tasse, tassine e tassette, vengono intascate da noi. Quando per noi sono dei balzelli in più, come sapete, chi non lo sa, ve lo ricordo io, gli agenti di viaggio percepiscono l'1% lordo di commissione sulla vendita di un biglietto aereo strettamente legato alla tariffa. Per cui se compriamo un biglietto, acquistiamo un biglietto di 2 euro, che va a finire con tutte le tasse a 98 euro, noi percepiamo l'1% lordo sui 2 euro. Quindi voglio dire, al di là poi ovviamente viene applicata ai diritti di agenzia per forza di cose, per non rendere un servizio gratuito. Per cui intanto il biglietto deve essere appunto chiara, diciamo il prezzo finale. E per quanto riguarda i biglietti low cost, che sono stati anche qui menzionati, diventa ancora più complicato, sia per la gente di viaggio, ma per il cliente finale, soprattutto se vuole comprarsi il biglietto per conto proprio, o comunque verificarlo prima di acquistarlo in agenzia, stare attenti a tutte, diciamo, le trappole che ci sono oramai, perché c'è il pre-check-in, il check-in online che poi si scopre che è obbligatorio quando si arriva all'aeroporto e bisogna pagare 50 euro per potersi imbarcare. La registrazione del bagaglio che è obbligatoria perché altrimenti si scopre che se si fa in aeroporto costa altri, insomma, una media di 15, 20, 30 euro in più. Il peso eccedente che se si scopre che se viene fatto in aeroporto costa molto di più che se viene fatto online. tutta una serie di incombenze pazzesche che secondo noi portano alcune compagniere, una delle motivazioni per cui secondo noi porta una compagnere che non voglio nominare, ma che è già stata nominata, a non riconoscere i biglietti emessi dalle agenzie di viaggio, perché forse, come loro oramai guadagnano, non sul biglietto, ma con tutte queste spese accessorie, è ovvio che se un biglietto viene emesso da un'agenzia di viaggio, tutte queste cose vengono fatte presente al cliente finale, al consumatore. Per cui io non mi dilungo oltre, perché poi c'è anche il collega Corbella che dirà altre cose, però quello che io auspico che esca fuori da questo incontro di oggi, veramente di sedersi intorno a un tavolo tutti gli attori della filiera, comprese soprattutto le associazioni di consumatori, per ridisegnare un po' i diritti e i doveri, perché ad oggi sembra che per alcune cose le compagniere abbiano solo diritti o per altri versi solo doveri, i tour operator e le agenzie di viaggio molte volte si trovano nel mezzo e per non perdere il cliente a volte rimborsano anche cose che non sono previste pur di appunto mantenersi la propria clientela e per quieto vivere, e con ad oggi secondo me una sprequazione per due versi da parte dei consumatori, perché ci sono i consumatori che si lasciano correre addosso tutto, dicono vabbè adesso devo accendere un contenzioso, subisco, ed altri invece consentitevano dire che per professione fanno il consumatore che fa il reclamo.